pronostico italia costa rica oggi si gioca alle 6 e chi vince è una partidaccia come una partidaccia la coppa rica lo so ma ieri l'uruguay ha battuto l'inghilterra 2 a 1 inghilterra stasera l'italia speriamo che vinci perché sennò rischiamo di uscire fuori dal girone del brasile dei mondiali quindi il tuo pronostico dai chi vince io ti compareggio pareggio pareggio quindi l'italia costa rica è una bella squadra 2 a 2 2 a 2 mi auguro che vince però il costa rica è una squadra forte è una squadra tosse allora il brasile e l'argentina però ha visto la spagna ha visto ieri l'inghilterra con l'uruguay ha visto ieri l'uruguay e certo l'ha visto sanchez 2 a 1 2 a 1 però il secondo cuore è un fuori gioco giusto e noi l'ultima partita abbiamo contato proprio l'uruguay l'uruguay ha perso con la costa rica ho capito ma ha vinto ieri speriamo che vinci oggi l'italia così possiamo andare tranquilli l'ultima partita con l'uruguay perché se perdiamo pareggiamo si mette male si mette male sempre forse italia comunque vediamo Balotelli segna oggi Balotelli banoso oggi segna De Rossi uno a casa De Rossi ma Candreva Lazio giusto? si Candreva Lazio ma Candreva dice che va via dalla Lazio va all'estero mi sa Candreva ho capito quindi pareggio pareggio due a due due a due Grazie a tutti.